E' uscito il nuovo disco del trio Bobo, si chiama Pepper Games. Pensate, ci suona Alessio Menconi, Christian Meyer e anche io al basso, incredibile. E' un disco molto bello, pensate, è in stereofonia. Trio Bobo per tutti. I gusti. Ah, non le persone. I gusti. Ma io sapevo solo per i malati fini. Tu mi dici per tutti i gusti. Non le persone, le sapevo per tutti, per tutte le persone. No, solo i gusti. Non c'è il basso registrato. Non c'è il basso registrato. E' un pezzo della musica. Un pezzo. Grazie a tutti. 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 Nuovo disco. Nuovo disco. Pepper James. Nuovo disco. Bellissimo. Bello. Meno bello. E' uscito il nuovo disco del trio Boco. L'unico trio che vi sforna un disco ogni dieci anni e passa. E' registrato molto bene in casa si sente da Dio fa risplendere il vostro stereo. Grazie a tutti.